Ok, sì sì. E tu resti molto da l'obietà umano. Mi sono tornato malato la mattina in l'occhio di Lozon. È stato molto freddo. E non ho preso le buon vesto e le buon gant. Quindi ho troppo freddo. E un momento, mi sono tornato malato. Quindi, quando sono arrivato a la prima parte, avrei dovuto essere contento. Ma in realtà, mi senti che ero malato. E ho dovuto dormire. Ma non è bene? Sì, ho dormito per 7 ore. Ho dormito per 5 ore. Ho sperato di continuare. Ho pensato che voleva abbandonare. E là, va molto meglio. Ok. Ok. C'est super. Allora, bon courage. Merci beaucoup. Bonne chance. Ciao. Allez, Marcin. Au revoir la prossima. Ciao.